masse di un'opera guerra ciobillo O Shai, che se potrebbe fare esplodere la bomba domica e la bomba nucleare? Mi stai coinvolgendo. E noi dovmmo fare una guerra in un'area contro i militari canadesi questa volta sempre canadesi, il Canada ci sta sempre sfidando però io sono veramente prontissimo per fare questa guerra perché questa guerra diciamo che è piena di soldati cioè io sono un botto di persone da sconfiggere però di quei soldati canadesi quello intendo io vabbè ragazzi, io sono veramente pronto per fare questa guerra i soldati hanno già il loro AKQ7 vabbè, iniziamo vabbè, 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 vabbè. adesso i militari canadesi moriranno tutti vabbè. vabbè, 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 vabbè. vabbè, 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 vabbè. vabbè, 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 vabbè Sì 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 sì! Sì sì sì! 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 Sì!